L'agio è il nubilato, quindi io e te abbiamo il permesso di andare in uno strip club questa sera Sei contento amore? Andiamo in uno strip club? Sì Sei contento amore? Devo vedere le donnine nude? Sì? Non mi sembri gazzatissima Hai le bolle? Sì, ti stai ribellando Bravo amore, stai imparando a fare la caffettiera Bravo amore Bravo, la prima cosa è imparare a fare la caffettiera Pirlone La nostra giornata trasgressiva inizia così amore Mettendoci i giochi in faccia e non riuscendo di più a prendere No amore, puoi spostarlo se vuoi Però so che ti piaceva così Infatti, esatto amore Hai trovato un modo per ripararti dai telefoni della mamma e del papà? Bravo amore, ribellati a tutto questo Allora, siccome Chiara sta facendo il suo addio al nubilato a Ibiza E noi siamo qui nella nostra allegria Ho preso l'occorrente per fare il mio addio al celibato Sei pronta per questa festa pazza? Sei pronto per l'addio al celibato amore? Sei pronto? Fatale Comunque non è giusto che Chiara che sta facendo l'addio al nubilato a Ibiza Ha il suo hashtag E io non ho il mio hashtag Quindi lancerò il mio hashtag Fedez Resta a casa Sè È un trattato scritto che all'addio al nubilato di Chiara Sono vietate tassativamente le seguenti cose Cannucci a forma di piselli Palloncini a forma di piselli Tutto ciò che è una forma di pisello Ma soprattutto Piselli veri In più la nonna mi ha portato via Leo Che ha il parco E quindi io sono solo il mio noio Quindi adesso mi invento qualcosa Non mi inventerò niente in realtà Allora Il nostro addio al celibato Lo sfrutteremo in questa maniera Useremo il telescopio Per guardare le persone che si spogliano Sei contento Sergio? Sì Sì Mi avete organizzato una festa sorpresa Non me lo volete dire No Però va che la Matti era interessata quando ti sei slacciato i pantaloni. Mati, in realtà è un addio al celibato per te, siiii! Lei è 6ix9ine? La vera star del nostro addio al celibato? Non è chiara coi capelli rosa, è gurma coi capelli... poni. Ok Google, ricordavi di portare il costume da bagno per l'amato prima di partire per l'invita. Per quando puoi impostare il promemoria? 20 luglio. Ecco il tuo promemoria, portare il Dio al celibato è nel vivo, siamo al momento clou di questo Dio al celibato che entri la figa. Il nuovo cocktail inventato dal PA, la vodka lippo! Nooo! 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 Si fa solido! Potrebbe veramente, perchè poi sta anche bene, guarda! Tu fai il bicchiere? Fai il bicchiere? Un bicchiere particolare con il tubo dentro! Nooo! Nooo! Fai vedere come si beve? La situazione sta diventando otto in questo addio al celibato. mmmm